ben ritrovati con l'appuntamento meteo amici di super j in queste ore serali è in atto il rapido peggioramento del tempo al centro sud in particolare del lato adriatico ma domani tornerà il sole tranne qualche nuvola ancora possibile al mattino bel tempo anche per la giornata di domenica sebbene in un clima piuttosto freddo da lunedì potrebbe giungere un affondo perturbato più deciso ed incisivo con precipitazioni che potrebbero divenire più intense e coinvolgere almeno inizialmente anche il nord italia in abruzzo deboli precipitazioni fino a notte con quota neve fin sui 600 700 metri in nottata ma domani torna il sole in tutti i settori la ventilazione sempre da nord di debole intensità ed il mare da mosso a poco mosso entro domani sera per quanto riguarda le temperature minime della notte comprese tra meno 2 e 6 gradi e massimi di domani tra 5 e 10 gradi l'appuntamento con il meteo e per domani mattina buona serata profondità 1 2 1 1 2 1 1 1 Grazie a tutti.